Siamo qua al Palaciti, partita conclusa per il Santasai a 42 a favore della nostra Raumas e siamo qua con i due capitani, Tony. Un commento post partita? Guardando il risultato, già il risultato parla chiaro. Noi abbiamo impostato una partita sapendo già che chi incontravamo, una squadra forte, impostata, con tutti i suoi lati e sono veramente bravi, hanno dimostrato di essere più squadra rispetto a noi, ci abbiamo provato e è andata così. Speriamo a ritorno. Daniele, il risultato è un bellissimo risultato. Qualcosa sulla prestazione invece? Buonasera a tutti. Innanzitutto noi siamo ancora a work in progress perché abbiamo un nuovo gioco da migliorare. Seregno ha fatto due quarti secondo me che ci ha tenuto bene. hanno dimostrato che soprattutto Tony, che è stato un giocatore di spessore per il basket in carrozzina a livello nazionale, ha fatto il suo. Siamo contenti, oggi abbiamo mantenuto la calma, abbiamo fatto diversi giochi che il coach ci chiede. Direi che è un buon inizio, stiamo iniziando a capire dei meccanismi che ci sono mancati le partite precedenti. Siamo qua pronti per lavorare, anche oggi abbiamo giocato tutti e siamo contenti, molto contenti e complimenti a Tony. Tutto che ha... quanti anni hai Tony? 58. Con 58 anni fa ancora la sua figura in campo e dà del figlio da torcere anche a dei ragazzini che stanno appena iniziando. 50 anni fa ancora la sua figura in campo e a dei ragazzini che stanno appena iniziando.